È una vera eccellenza lecchese nel mondo, pur provenendo da un territorio che ha spesso anteposto il lavoro al piacere e non custodisce un patrimonio enogastronomico così ricco. Eppure il grande chef Enrico Derflinger, partendo proprio dalla conoscenza e valorizzazione della cucina del suo lago, ha saputo diventare un grande artista dei fornelli, come attesta il suo curriculum, che l'ha visto diventare a soli 27 anni chef personale della Casa Reale inglese e a 29 chef alla Casa Bianca. Poi tante esperienze in Italia e in Oriente. Nel 2008 è stato premiato quale migliore chef del mondo. Dal 2012 è presidente di Eurotoc Italia e nel 2015 viene eletto presidente di Eurotoc International, l'associazione riconosciuta dall'Unione Europea che riunisce i cuochi di tutto il continente e ha, nella sua mission, la difesa della qualità degli alimenti in ogni nazione. Derflinger con i suoi colleghi ha nobilitato, con la sua presenza e la sua creatività, il Bitto e le Stelle, grande evento tenutosi nei giorni scorsi alla Fiorida di Mantello, per celebrare insieme l'estro dei grandi cuochi e la bontà di un grande formaggio. Esaltare questo grandissimo prodotto della Valtellina, un prodotto del nostro territorio, del lago e questi grandissimi prodotti che sono un po' la base sulla quale noi costruiamo la nostra cucina. Quindi vedere anche così tanti ragazzi giovani che hanno voglia di lavorare, di fare, di intraprendenti per noi è un punto di stimolo e non solo un punto d'arrivo. Un messaggio ai consumatori, lei ha detto basta cibo anonimo. Sì, noi abbiamo fatto questa campagna qua che si chiama Stop Cibo Anonimo, l'abbiamo presentata la settimana scorsa al Parlamento Europeo a Bruxelles e abbiamo raccolto quasi un milione di firme per fermare il cibo anonimo e sapere da dove arrivano tutti i prodotti che noi mangiamo sulla tavola. È stata una mission di Eurotalk e noi abbiamo portato avanti con Pecoraro Scagno e con la sua fondazione Univerde e ci batteremo e tra pochi giorni arriveremo a un milione di firme e siamo orgogliosi di partecipare a questo progetto. Dal lago alla Valtellina come sta l'enogastronomia di questi territori? Ma sono dei territori come diceva Plinio che legati al formaggio, legati ai vini, legati ai produttori, a questi grandi prodotti, sopravvivono anche se non è semplice, sono territori dove bisogna impegnarsi molto, dove bisogna lavorare, dove bisogna faticare, ma sono dei territori bellissimi. Io che giro tutto il mondo mi porto una volta a vedere dei posti, parto sabato per la Cina dove farò un lungo giro, mi porto a vedere dei posti che non hanno assolutamente niente da invitare i nostri, i nostri sono cento volte più belli, sicuramente.